La società è nata vent'anni fa e si occupa di progettazione, costruzione e commercializzazione di sistemi di movimentazione per magazzini automatici. Ha iniziato a produrre sistemi di movimentazione meccaniche, che sono le forcole telescopiche, di cui siamo uno dei più grandi produttori mondiali. Dal 2011 abbiamo deciso di entrare in questo nuovo settore della movimentazione automatica con sistemi Smart Shuttle. Il sistema Smart Shuttle è un sistema innovativo che permette la movimentazione all'interno di magazzini automatici in molti profondità. Questo sistema si differenzia rispetto agli altri sul fatto che le macchine possono lavorare in maniera indipendente. Il sistema Smart Shuttle per poter funzionare è la necessità di parecchi sistemi che vanno dalle batterie, che vanno in sistemi di posizionamento assoluto, che vanno al Wi-Fi. Con il Wi-Fi noi utilizziamo il sistema della Fenix Contact. Il rapporto con Fenix Contact nasce sette anni fa. Avevamo capito che l'utilizzo del Wi-Fi era il futuro per quanto riguarda il sistema di movimentazione all'interno di questi magazzini e per queste macchine. E quindi Fenix Contact ci ha seguito in tutto questo sistema di sviluppo che stiamo continuando a fare fino a questo momento. Il contributo di Fenix Contact è stato decisamente importante nello sviluppo delle macchine. Quanto essendo un campo completamente nuovo e inesplorato, se non avessimo avuto un grosso gruppo che ci supportava per questo tipo di ricerca sarebbe stato molto difficile. Con Fenix Contact non abbiamo solo operato e lavorato con la parte Wi-Fi, ma abbiamo anche utilizzato e ci hanno dato anche consiglio e ci hanno aiutato nella ricerca di anche altri prodotti che sono all'interno della macchina, che vanno dalle morsettiere, alimentatori di CDC, RLE, sono uno dei nostri partner privilegiati nello sviluppo dei nostri prodotti. Ovviamente noi continuiamo a fare ricerca, quindi continuiamo ad andare avanti, cercando di alzare sempre l'asticella e di poter andare avanti e essere sempre estremamente competitivi sul mercato. Grazie a tutti.